Ciao, ti do il benvenuto a questo nuovo video sul canale di Pilates con Giorgia. Ho deciso di dedicare questa pratica a un rilassamento guidato con le campane tibetane che hanno un suono meraviglioso. Questa pratica è appunto un rilassamento guidato, quindi ti consiglio di praticarla a fine giornata, verso sera o prima di andare a letto, o quando sei particolarmente in tensione, in ansia, quindi hai bisogno di un po' di rilassarti, di riprenderti questo contatto con te. Potrai svolgere questa lezione su un tappetino, distesa o disteso, con un supporto dietro la testa, un supporto anche eventualmente sotto le ginocchia, come per esempio una coperta ripiegata per sdraiarti con le ginocchia supportate e sii ben coperta o coperto, puoi anche proprio usare un plaid per coprirti. Puoi anche praticare questa lezione direttamente a letto se soffri di insonnia e spero che ti aiuti ad addormentarti e a dormire meglio. Quindi quando sei pronta o pronto puoi anche mettere in pausa il video, io ti aspetto qui. Cominciamo insieme. Comincia a sentire la tua posizione sul tappetino. Comincia a sentire tutta la parte posteriore di te che è a contatto con il tappetino, con la terra. Prenditi qualche istante proprio per arrivare sul tappetino. Lasciando fuori dal tappetino la tua giornata appena trascorsa o quella che sta cominciando a seconda del momento della giornata in cui ti trovi. E fai un respiro volontariamente più profondo attraverso il naso. Ancora una volta. Inspira. Espira. E sul prossimo espirarai dalla bocca. Quindi inspira dal naso. E espira dalla bocca. E poi lascia che il tuo respiro ritorni ad un ritmo più naturale, senza necessariamente provare ad allungare il ritmo o a cambiarlo o a rendere il respiro più profondo. Lascia che accada in te. E con ogni espiro prova a sentire quanto il tuo corpo può essere pesante verso la terra. Quindi ad ogni espiro lascia andare il peso di te verso la gravità. Comincia a sentire il contatto dei tuoi piedi con il tappetino e senti quale parte del tallone destro e del tallone sinistro appoggi. senti lo spazio nel retro della tua caviglia, destra e sinistra. E dopo quest'arco senti il punto in cui torni a toccare il tappetino con i tuoi polpacci. Non preoccuparti se senti che un lato è diverso dall'altro. E' bene che facciamo pace con la nostra asimmetria perché nasciamo asimmetrici. I nostri organi non sono tutti doppi, tutti simmetrici. Anche solo per questo siamo già costituzionalmente asimmetrici. senti lo spazio nel retro delle tue ginocchia, il destro e il sinistro. e di tanto in tanto torna con la tua attenzione anche al tuo respiro mantenendo la consapevolezza del tuo respiro come un sottofondo come lo sfondo sul quale poi si stagliano i dettagli della tua esplorazione. senti il modo in cui le cosce toccano terra e i glutei, destro e sinistro. e sei quindi all'altezza del tuo bacino, la parte più pesante di te, la parte centrale di te. quest'area è molto importante, contiene i tuoi organi riproduttivi, i tuoi organi, alcuni dei tuoi organi escretori. è una parte fondamentale per la vita stessa, il concepimento, la creazione della vita, ma anche per l'eliminazione delle scorie, ciò che non ci serve più. quindi contiene in sé la nascita tanto quanto la morte o la fine. e questa regione molto spesso conserva alcune tensioni di cui non siamo consapevoli, quindi porta la tua attenzione al pavimento pelvico, la tua area genitale, all'ano e prova a ridurre un pochino, se puoi, questa tensione per ammorbidire questa regione di te come un fiore che sboccia, che si apre. e senti i tuoi organi interni e anche qui con l'espiro, lascia andare eventuali tensioni interne al tuo addome. se vuoi puoi toccare con le tue mani il tuo addome o lasciare lì le mani in appoggio per il momento. e senti che ad ogni inspiro il tuo addome si espande in avanti, dando più spazio agli organi interni, all'intestino, all'utero, alle ovaie. le tue ovaie o testicoli, se sei un uomo. e continuando senti l'appoggio del sacro e poi la curva lombare, una zona che probabilmente è staccata dal tappetino oppure un po' più leggera come appoggio nel retro della schiena, nella parte più bassa. e senti, segui questa curva della zona lombare per percepire il punto o l'area in cui questa curva torna ad essere a contatto con la terra nella regione del torace. senti le tue coste, la tua gabbia toracica nel lato destro e sinistro. anche questa è un'area profondamente importante, contiene il cuore, i polmoni, gli organi che ti consentono di vivere davvero dal primo respiro all'ultimo. e che in qualche modo portano il ritmo della tua vita, il ritmo del respiro, il ritmo del battito del cuore. senti il torace ammorbidirsi, la tua muscolatura ammorbidirsi come se fosse burro che con il calore si scioglie man mano. e senti l'appoggio delle tue scapole destra e sinistra. e se avevi le mani sull'addome riportale giù sul tappetino con le braccia distese al tuo fianco sentendo l'appoggio delle braccia, delle mani a terra. e senti il modo in cui hai scelto di orientare le mani e le braccia nello spazio. senti quanto sono distanti da te. senti la distanza anche dal retro delle tue spalle, dal pavimento, dalla terra. e poi percepisci di nuovo una curva che si distacca dalla terra nella zona cervicale. la zona cervicale ha la stessa forma, più o meno, della curva lombare. e senti poi la zona del cranio dove torni ad appoggiare il tuo corpo al tappetino. senti il peso della testa verso la terra. e ora che hai una immagine un po' più chiara, un'immagine sensoriale di te, ma nella parte posteriore, prova a mettere insieme questa immagine con la percezione della parte anteriore di te, quella che non tocca il tappetino. prova a riunire queste due immagini della parte anteriore e posteriore di te, mantenendo sullo sfondo il tuo respiro. senti il tuo respiro, senti il tuo respiro. il suo marco. ampa m Grazie a tutti. 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 Fa che siano pian piano sempre più rarefatti, leggeri, fino a dissolversi, lasciandoti con il tuo respiro in questo istante. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pian piano, comincia ad allungare con consapevolezza il tuo respiro. Ed espira. Ed espira. Ed espira. E ora inspira. Trattieni il respiro. a polmoni pieni. Ed espira. Ed espira. Ed espira. trattieni a polmoni. vuoti. Quando non ce la fai più, lascia che il prossimo inspiro emerga spontaneamente. e senti. E senti quanto può essere soddisfacente. E senti quanto può essere soddisfacente questo inspiro. Lascia andare tutto ciò che ti frena, tutti i pesi che porti con te, tutto ciò che non ti serve più nel tuo cammino, nella tua evoluzione. E col prossimo inspiro, senti il nutrimento di ciò che non ti serve. di nuovo, ciò che è fresco, leggero, che vuoi lasciare entrare nella tua vita. E senti se le tue labbra hanno la forma come se fossero pronte a sorridere. o se invece sei più seriosa, più con una sorta di espressione di cruccio o di preoccupazione. e in quel caso lascia andare, distendi il volto, rilassa la bocca. E preparati a sorridere. Sii pronta o pronto a sorridere. Senti che differenza fa proprio in te e nelle tue cellule. Poi con i tuoi tempi, pian piano, muovi le mani e le dita dei piedi. Riprendi il contatto con l'estremità di te e poi piega una gamba dopo l'altra. E lentamente ruota sul tuo fianco preferito e rimani qualche istante ancora distesa. Prenditi tutto il tempo che ti serve per tornare a sederti. Se hai voglia di sederti e uscire così dalla pratica. O se sei già a letto, magari puoi continuare semplicemente a stare sdraiata o sdraiato e dormire. Prenditi ancora qualche istante per te. In questa intimità, con le tue sensazioni, con il tuo respiro. Io ti ringrazio di aver praticato con me. E noi ci vediamo alla prossima pratica.